Salve, sono Cristiano Traferri, sono il responsabile commerciale della ditta Euromet, disponiamo qui a Francoforte da 30 anni praticamente, da quando è nata l'azienda e diciamo che l'edizione 2012 è andata oltre ogni più rosa aspettativa, posso dirlo, nel senso di prospect, nel senso di visitatori e diciamo il peso specifico dei visitatori, non solo il numero, abbiamo notato una ampia varietà di paesi visitatori, quindi non solo europei ma anzi anche dal far est, Singapore piuttosto che Corea del sud e persone che appunto non vanno più a cercare il prodotto cheap, il prodotto cosiddetto cinese, ma effettivamente puntano molto sulla qualità, sulla garanzia, sulla durability del prodotto e noi su questo posso tranquillamente dire che siamo il nostro fiore all'occhiello in quanto pensiamo addirittura di estendere la garanzia minimo a 5 anni, minimo. Adesso posso dare un suggerimento all'ente fieristico qui, quello di cancellare la giornata del sabato che a mio avviso considerati costi benefici è assolutamente sfavorevole. Già nel pomeriggio del venerdì abbiamo notato un forte decremento dell'affluenza, il settore questo diciamo più tra virgolette tecnologico, più portato all'innovazione piuttosto che al musicale nude crudo, sembra appunto che abbia portato una nuova, un raggio di sole dopo un po' di nuvole che sono passate. Ultimo non ultimo è stata anche la testimonianza di molti protagonisti del settore che hanno fatto il NAM a gennaio a Los Angeles, a Danaheim e hanno avuto la stessa sensazione che ho avuto io qui, quindi se una rondine non fa primavera speriamo che due rondine la facciano. I primi mesi del 2012 come è un po' il trend dell'economia nazionale ed europea penso che non stupisce a nessuno se dico che sono stati flat, senza particolari scossoni o dinamismi vari. La speranza di tutti è quella di cominciare a muoverci il prima possibile già da subito insomma. I nostri prodotti presentati ad Ise hanno avuto un enorme successo, c'è ovviamente adesso la fase di metabolizzazione del prodotto, la fase di understanding, chiamiamola così, per poi abbiamo totalmente fiducia nello sbocciare di questo fiore. Ci siamo molto concentrati sull'interattività del proiettore, quindi supporti per l'interattività del proiettore, non solo i ormai già visti, ultracorti eccetera, ma proiezione anche per il training, quindi per enti pubblici, quindi proiezione su un tavolo, sui tavoli interattivi, nuove soluzioni per proiezioni 3D o in stacking. Abbiamo migliorato un attimino quello che è l'interattività che ormai adesso la fa la parola dell'iPad, quindi l'interattività dell'iPad con il mondo musicale e anche con il mondo dell'installazione. Diciamo che c'è un grande bisogno di competenza e speriamo che in Italia attraverso le associazioni di categoria non ultima la SIEC, di cui facciamo parte anche noi di Euromet, possa un attimino elevare quella che è la figura professionale e dare il giusto valore al vero installatore, non all'improvvisato, ma al vero e riconosciuto installatore, quindi qualificarlo e dandole un proprio DNA e questo ne va a beneficio tutta l'industria e crea appunto quella discriminante che ce n'è bisogno, almeno in Italia, parlo almeno del territorio nazionale. Grazie a tutti.